Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Non perdete tempo, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. La magia del grande fratello non si esaurisce mai, persino dopo la fine del programma stesso. Laddove il mondo dello spettacolo e della vita reale si intrecciano, nascono storie che appassionano e coinvolgono il pubblico, che si ritrova a tifare per i propri beniamini, scrutando ogni gesto e parola. Ma così come nascono, alcune di queste storie conoscono una fine inaspettata e definitiva, come dimostrato dall'ultima edizione. Tra le coppie che hanno incantato gli spettatori, c'era quella formata da Giuseppe e Beatrice. Una coppia che, sin dall'inizio, ha fatto parlare di sé per la differenza d'età e di notorietà. Ma il loro amore sembrava resistere a ogni prova, tanto che, durante le ultime settimane del programma, sembrava essere tornato il sereno. Tuttavia, la vita al di fuori della casa ha portato con sé nuove sfide e, purtroppo, anche la fine di un legame che sembrava indissolubile. Secondo alcune indiscrezioni emerse dai social media, sembrerebbe che la rottura sia stata decisa da Beatrice. L'idea che la loro relazione potesse portare maggiore notorietà al giovane Giuseppe sembrava aver influito sulla decisione della donna. È una verità amara da accettare, soprattutto per chi credeva nel loro amore, ma la realtà spesso si rivela più complicata di quanto si possa immaginare. Beatrice, una volta fuori dalla casa, ha ricevuto una serie di proposte lavorative che potrebbero aver influenzato la sua decisione. È normale che ognuno cerchi di costruirsi un futuro migliore, ma a volte ciò significa dover prendere decisioni dolorose. Il futuro di Giuseppe, al contrario, sembra meno definito, meno esposto rispetto a quello della sua ex compagna. Tuttavia, il ragazzo ha di fronte a sé l'opportunità di reinventarsi, di trovare una strada diversa da quella tracciata durante il grande fratello. Questa rottura non fa che confermare quanto sia difficile trasformare un amore nato sotto i riflettori in una relazione duratura nella vita di tutti i giorni. I sogni e le aspettative, mescolati alla pressione mediatica e alle opportunità professionali, possono mettere a dura prova anche il legame più solido. E mentre il pubblico si interroga su cosa riserverà il futuro per entrambi, rimane la speranza che possano trovare la felicità, anche se separati l'uno dall'altro. Il grande fratello ha il potere di creare storie straordinarie, ma anche di mettere alla prova le relazioni umane, esponendo le fragilità e i desideri più profondi dei suoi concorrenti. E mentre una storia finisce, altre potrebbero ancora sbocciare, pronte a catturare l'attenzione del pubblico e a far sognare chi guarda, perché alla fine è proprio questo il fascino del grande fratello, l'inaspettato, l'imprevedibile e l'eterno desiderio di amore e felicità.